I finanziari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito un sequestro di beni immobili per un valore complessivo di 470.000 euro nei confronti di tre soggetti responsabili a vario titolo del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La misura cautelare eseguita giunge al termine di complesse indagini svolte dalla Finanza e dall'Agenzia delle Entrate. Nel corso delle indagini gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno appurato che la società di costruzioni in questione si era spogliata per mano del legale rappresentante ed in concorso con la ex consorte e con il socio di maggioranza di parte dei beni aziendali attraverso operazioni simulate. Più in particolare gli asset aziendali erano stati trasferiti alla nuova compagna dell'imprenditore in forza di un titolo di credito artatamente creato per questa donna. Con questa operazione la donna era entrata così legittimamente in possesso degli asset aziendali conferendoli subito dopo nel patrimonio di un trust amministrativo dello stesso imprenditore di Ile. Con questa manovra sono state inibite le procedure di riscossione coattiva delle imposte. E' scattato così il decreto di sequestro dei beni immobili illecitamente trasferiti per un valore di 470.000 euro.